Tu prima hai detto una roba molto interessante su Allega, tu hai detto su Manchester è stata una partita che è stata un po' un crocevia anche se vogliamo un po' della sua carriera che è stato quel Juventus-Manchester dove la Juve perde 1-2, dove la Juve fa una grandissima partita in casa sua e poi alla fine va a perdere tu proprio hai detto in quel momento lì la Juve forse era la squadra più forte d'Europa con Ronaldo che era arrivato da poco, insomma la Juve giocava veramente un gran calcio quella partita la Juve fece una prestazione fenomenale, io tra l'altro ero allo stadio, mi ricordo proprio tante occasioni sbagliate alla fine la Juve perde prendendo due gol che Allega non può concepire, cioè proprio non può concepire nella sua idea di calcio e per cui da lì forse comincia un periodo in cui Allega dice basta non voglio prendere rischi o comunque metto in dubbio magari quel metodo lì e vado ad adottare al 100% un calcio, un qualcosa, un sistema che gli dice insomma limito al 100% i rischi cerco di rischiare il meno possibile, cerco di essere il più conservativo possibile e cerco di portarmi a casa il risultato Sì, ho sempre avuto questa cosa nella mia testa, magari un'idea mia, ma io ho la sensazione che quella che partita abbia cambiato la storia di quella stagione e di Allegri addirittura che si è radicalizzato da quel momento era un allenatore sicuramente meno estremo fino a quel momento, la Juve giocava un calcio più offensivo c'era ancora la spinta di Ronaldo che era arrivato a luglio, erano passati soltanto quattro mesi di conseguenza era ancora vivo il ricordo del grande colpo di mercato si tendeva a giocare per Ronaldo, un calcio più offensivo si provava a far coesistere Ronaldo e Dybala con altri giocatori da lì in poi la Juventus gioca altre partite perché il ritorno con l'Atletico Madrid una partita pazzesca con Emmercian Stellare, Bernardeschi Stellare però diventa una squadra più difensiva che rischia di meno, che si prende meno rischi insomma lì presero un gol da una punizione di Guamata e da un autogol, credo, Alexandro una situazione ancora da palla ferma sì, ancora situazione di palla ferma di conseguenza le classiche situazioni che Allegri non vuole concedere e che questo Milan concede, io ci penso spesso perché è esattamente la squadra all'antitesi pensa a quante occasioni concede il Milan la partita tra l'altro poi si ripete con il Milan perché a gennaio Milan-Roma 2-2 una partita molto simile all'allenatore guarda caso è sempre Mourinho che sembra sempre il classico diavolo nascosto dietro la panchina che ti architetta queste magate dall'85esimo in poi anche lì il Milan domina, prende due gol anche lì da palla ferma con una punizione concessa da Vrancs che avrebbe mandato Allegri su Saturno dalla rabbia e anche lì 2-2, anche quella volta cambia la storia del Milan perché il Milan perde sicurezza e comincia quel gennaio terribile sono quelle partite che ti fanno cambiare il DNA un po' misteriosamente perché non è facile avere la forza delle idee andare avanti da parte dei giocatori più che dell'allenatore essere convinto di essere molto forte anche se ti hanno rimontato dopo una partita dominata e lì insomma non per caso poi ne vince una sola le altre hanno un momento di crisi in cui cadono e quello secondo me è stato il momento di quella Juventus che poi perde per gli infortuni però è una lettura che comunque mi piace perché effettivamente lì c'era stato il tentativo di Allegri insomma di andare molto all'attacco di sfruttare tutto il potenziale che c'era anche con l'arrivo di Cristiano ma poi dopo inevitabilmente insomma da quella partita si è notato in modo abbastanza palese questo cambio anche proprio di di atteggiamento da parte di quella Juventus lì che poi dopo esattamente come il Milan di oggi ha patito forse qualche qualche infortunio qualche infortunio di troppo sì anche perché in Serie A era troppo facile hanno vinto a febbraio onestamente quindi poi lì mancavano stimoli era poco allenante direbbe Cappella esatto esatto